Ci dicevamo andiamo a dare una mano a Walter, invece no, Walter non ha bisogno di un aiuto. Walter sta dando una mano a lui, a tantissime persone che sono nelle stesse condizioni, nessuno mai è nelle stesse condizioni, ma che sono in condizioni simili a esercitare i propri diritti. Erma è diventato un simbolo della battaglia che sta portando avanti da anni quella per la cannabis terapeutica a Walter De Benedetto. Questa mattina nella sua abitazione a Ripa di Olmo, l'incontro organizzato dall'associazione Luca Coscioni. Walter, da oltre 30 anni, a causa della sua malattia, deve fare i conti con forti e costanti dolori, leniti solamente in parte dalla cannabis terapeutica, ma la quantità che gli veniva fornita dal sistema sanitario non era più sufficiente, così aveva deciso di coltivarla illegalmente in una serra. Alcune settimane fa il blitz dei carabinieri e l'arresto di un amico sorpreso ad innaffiare le piante. C'è quindi da fare un ulteriore passaggio che è quello delle priorità dell'amministrazione della giustizia in Italia, la giustizia penale. Perché per curarsi uno deve rischiare o far rischiare a parenti e amici il carcere? Ecco, questo è quasi un appello morale, oltre che politico generale. Dall'associazione Luca Coscioni arriva poi anche un altro appello, inserire nella finanziaria l'emendamento de' Benedetto. Significherebbe fare sì che ci siano gli investimenti necessari perché ciascuno malato possa ricevere la quantità di cannabis terapeutica che gli è prescritta e non dover arrangiarsi da solo. La storia di Walter apre però anche ad altre riflessioni come quella sull'infinito dibattito relativo al fine vita. Questa mattina infatti il 48enne ha annunciato di volersi recare al più presto in comune per firmare il testamento biologico. Che quando una persona sulla propria pelle decide che la dignità della vita sia finita e ha una malattia che è inguaribile e si va incontro solo a sofferenza, potrà decidere di dire basta avendolo già detto cosa non ha in precedenza? Io penso di sì.